Sono Sandro Morasca, presidente del corso di laurea in informatica. L'informatica ha cambiato il mondo e ci sarà sempre più bisogno di informatici. L'informatica però è cambiata moltissimo, moltissimo e rapidissimamente. Come sarà l'informatica tra dieci anni? Non lo sappiamo, però possiamo preparare i nostri studenti. Ai nostri studenti forniamo delle basi solide di concetti e di metodi che li aiuteranno poi nella carriera professionale a padroneggiare le nuove tecnologie e anche eventualmente a creare delle tecnologie nuove. Noi all'Università dell'Insubria prepariamo i nostri studenti perché possano entrare direttamente e immediatamente nel mondo del lavoro in maniera tale che dal primo giorno possano essere attivi e poi possono avere dell'opportunità di crescita professionale e in tutti i settori perché l'informatica è esattamente in tutti i settori. Abbiamo un percorso completo e abbiamo corsi sia a Como sia a Varese e se voi vorrete continuare potete anche restare con noi per la laurea magistrale e per il dottorato. Abbiamo un ottimo rapporto tra docenti e studenti per cui siamo un ambiente ideale per la vostra crescita sia come studenti sia poi come professionisti. Noi cerchiamo studenti dinamici, creativi, con la curiosità e la voglia di sondare e di creare le tecnologie del futuro. Vuoi venire a conoscere e a creare le tecnologie di domani? Allora questo è il posto che fa per te. Scegli Insubria, scegli oggi il tuo domani. Ciao sono Chiara Carlini e frequento il terzo anno del corso di laurea triennale in informatica. Ho scelto di iscrivermi all'Insubria e in particolar modo a informatica perché tre anni fa cercavo una facoltà che potesse darmi delle basi solide per il futuro. Il mio background è principalmente linguistico letterario ma sono sempre stata appassionata del mondo scientifico e tecnologico per cui ho scelto di iscrivermi in informatica per conoscere la disciplina che regola il mondo di oggi. Ho scelto Insubria perché è un ateneo di dimensioni ridotte rispetto ad altre università italiane e questo favorisce il rapporto con i docenti. Inoltre è possibile conoscere meglio i propri colleghi per studiare, crescere e creare una comunità. L'Insubria è molto radicata nel territorio. Questo ci permette di avere tirocini in aziende locali e ci facilita nell'ingresso del mondo del lavoro. Quindi indipendentemente da quale sia stato il tuo passato fino ad oggi, se ami le sfide l'Insubria è il posto giusto per te. Scegli oggi il tuo domani. Grazie.